Signore e signori, ammirate il leopardo. Questa è bloccata. Prendi l'asservla col grand'angolo. Lei cosa fotografa, Diane? Come? Io? Oh no, io non sono una fotografa. Mio marito è fotografo. Mamma? Che c'è, Grace? C'è qualcosa nelle tubature. Sì. I peli del suo cane intasano le tubature. Abbiamo problemi con l'impianto. Provi a vedere nel seminterrato. È una nuova vicina. Sono amica di Lionel, l'uomo che vive di sopra. Mi piacerebbe iniziare a fare delle foto. Di cosa? Dei vicini. Stai cercando di sedurmi, Diane? Ti ho visto dalla finestra e ho voluto subito venire qui a casa tua. Perché ho sentito il bisogno di fotografare te, solo te. Perché vorresti fare un ritratto a qualcuno che non hai mai visto? Mi spaventa. Mi hai incoraggiato tu a farlo. Io ho incoraggiato solo a fargli qualche foto. Mi piace. io. Sì. Grazie a tutti.